Ciao, sono Willi, da Palermo. La mia storia è sull'esporto come una forma di includere le persone in tutto. Perché sono un giocatore del tennis di table con problemi fisici. E io faccio competizioni con molti, molti giusti e meno giusti di me. Ma tutti è il migliore di loro. E i esporti, credo, sono una forma di includere al topo le persone per creare qualcosa insieme. La mia storia è la mia storia con una domanda che mi dirò se non sono più privata. Ok? Grazie mille.